Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate della SOP TV La Promessa rivelano che per Imena arriverà il momento di scoprire la verità insullatresca clandestina tra suo marito Manuel e Iana. Dopo la confessione inaspettata del marito, la donna deciderà di indagare per scoprire chi è la donna con cui ha avviato una relazione, fino a trovare gli scatti della fuga romantica che Manuel aveva fatto con la domestica del palazzo, facendo perdere per qualche giorno le sue tracce. Manuel confessa di amare un'altra donna. Dopo il suo rientro al palazzo, Imena si ritroverà a fare i conti con la confessione spiazzante di Manuel, il quale le farà presente di non essere innamorato di lei. Il marchese non riuscirà a far finta di nulla dopo aver compreso di essere stufo dei continui aggiri da parte della moglie e così le confesserà di amare un'altra donna. Una rivelazione inaspettata che avverrà in presenza di tutti i suoi familiari, lasciando così senza parole non solo sua moglie ma anche i genitori. A quel punto Cruz proverà a indagare per scoprire chi è la donna che ha fatto breccia nel cuore di suo figlio ma, nonostante le pressioni da parte della madre, Manuel non vorrà far venire fuori il nome di Iana. Imena scopre la tresca segreta tra Manuel e Iana. Le anticipazioni spagnole della promessa rivelano che, successivamente, sarà la stessa Imena a prendere in mano le redini della situazione, intenzionata a scoprire la verità sul nome dell'amante di suo marito. In un primo momento proverà a chiedere informazioni al personale di servizio del palazzo, sperando che possano darle degli indizi importanti, ma così non sarà. Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Imena si recherà nell'hangar, dove troverà la prova definitiva sull'amante di suo marito. Gli scatti che Manuel e Iana avevano realizzato durante la loro fuga d'amore in spiaggia. Quale sarà, a questo punto, la reazione della donna? Non si esclude che possa rendere pubblico il nome dell'amante del marito. Manuel e la fuga d'amore con Iana. Negli episodi precedenti della soap opera spagnola di Canale 5, Manuel e la domestica erano riusciti a far perdere le loro tracce per un po' di tempo, andando via in gran segreto dal palazzo. I due, per la prima volta, si erano lasciati andare a un momento di passione travolgente, scattando anche delle foto che avrebbero dovuto conservare come ricordo di quelle giornate spensierate e felici. Intanto, al palazzo, Imena era amareggiata dal comportamento di suo marito che, di punto in bianco, aveva fatto perdere misteriosamente le sue tracce.